La montagna non si conquista, si percorre o per un sentiero o per una parete con il rispetto e l'ammirazione che si prova lungo le navate di certe chiese o in un museo nel vedere i capolavori lasciati dalle mani degli uomini. Parola di Franz Nicolini, 54 anni, guida alpina. Dal 2000 gestisce assieme alla famiglia il Tosa Pedrotti, rifugio a 2500 metri d'altitudine sulle Dolomiti di Brenta. Campione italiano ed europeo di sci alpinismo e skyrunner innamorato della montagna, Nicolini è stato un precursore della corsa in vette e dei concatenamenti, collezionando diversi record, tra i quali quello di salire ininterrottamente tutti gli 82-4 mila delle Alpi in appena 60 giorni. Io non voglio trasformare la montagna in una parca, tutt'altro, anzi la montagna deve rimanere luogo di avventura, in senso lato e a dare l'opportunità con tutte le regole della sicurezza in questi luoghi di poter muoversi, di poter confrontarsi anche agonisticamente, mi sembra un'ottima idea. Una disciplina non sempre vista di buon occhio dei tradizionalisti della montagna e dei grandi club, ma i giovani stanno cambiando idea. La velocità sulle vette, dice Nicolini, è l'arma segreta di un atleta ed è sinonimo di sicurezza perché impone continuo e completo controllo dei propri movimenti. Non ci siamo mai lamentati, ci sono sempre mossi coi fatti, per cui un 8 mila, come ho fatto io il Cioio, fatto in 17 ore, andata e ritorno, abbiamo un po' preceduto i tempi di quello che potrebbe essere un alpinismo del domani. Logicamente un alpinismo fabbricato su cosa? Sull'allenamento, sulla preparazione e i risultati poi dopo sono quelli che abbiamo dimostrato noi.